Flora Toscana è una società cooperativa, è nata agli inizi degli anni 70, è situata nel comune di Pescia e attualmente abbiamo 250 soci. In Flora Toscana abbiamo anche due hash and carry, uno situato all'interno dello stabilimento di via Caravaggio a Pescia, l'altro situato a Campi Bisenzio in provincia di Firenze. All'interno di questi hash and carry i clienti possono trovare tutto quello che è l'assoltimento di fiori decisi, le piante in vaso e tutta la gamma di accessori necessaria per la realizzazione del proprio lavoro, con i nastri, spugne e quant'altro. Tutto questo può essere acquistato fisicamente o tramite lo shop online. Il prodotto conferito in Flora Toscana che sia a fiori decisi o pianta in vaso viene all'interno confezionato, invallato e da lì poi prende la via per i mercati nazionali e internazionali. Poi abbiamo il conferimento di una serie di prodotti che vanno sulla filiera dell'Eco Solidale, in particolare le rose, che vanno sul canale della grande distribuzione. Oltre alla commercializzazione dei fiori abbiamo anche tutto quello che riguarda la commercializzazione di prodotti tecnici per l'agricoltura professionale. Oltre alla vasta gamma di prodotti tecnici troverete anche una professionale assistenza tecnica, personale che vi può seguire dall'acquisto all'utilizzo del prodotto. In Flora Toscana oltre a trovare competenza e idee per vendere al meglio il proprio prodotto, il socio trova una famiglia, trova una grande passione per la terra. Flora Toscana è questo, è un gruppo di produttori che tutti i giorni lavora e dà il meglio di sé perché i prodotti e i soci trovino soddisfazione nel proprio lavoro.